Stato in comune a fare una visita di portesia ai dipendenti comunali, gli è stato impedito di dialogare con i dipendenti comunali. La responsabile dell'ufficio ragioneria, la dottoressa Marcheggiani, me lo ha avvitato, facendosi forte del fatto che c'è una volontà politica, in particolar modo del sindaco, che impedirebbe ai consiglieri comunali, attraverso una delibera, di dialogare con i dipendenti. Quindi di poter confrontarsi solo con i responsabili di settore ed eventualmente i dirigenti.